Salve a tutti, io sono Samantha, un'educatrice del Centro Cinofilo Felicia. Abbiamo deciso insieme al nostro staff di pubblicare dei giochi e degli esercizi da poter svolgere in casa per i vostri amici a quattro zampe. Quindi, chi fosse interessato, ha due modalità per seguirci. Chiedere l'iscrizione al nostro gruppo Facebook Centro Cinofilo Felicia ASD dovrà rispondere a due piccole domande e verrà poi approvata l'iscrizione oppure contattarci ai numeri che vedete scritti in sovraimpressione via WhatsApp in modo che potremmo conoscerci, ci parlerete dei vostri cani e vi potremmo consigliare su esercizi e giochi per mantenerli in attività fisica. Alcuni saranno esercizi statici, alcuni saranno invece esercizi e giochi dinamici ma fondamentalmente non servirà tanto spazio, si potranno fare tranquillamente in casa e l'importante, mi raccomando, che tutti gli esercizi e i giochi che vi proponiamo vengano fatti con il cane a digiuno, soprattutto alcuni esercizi il cane deve essere a digiuno e sempre su una superficie antiscivolo, quindi un tappeto grosso che non si muova, i tappetini da ginnastica, una moquette, comunque non sul pavimento perché se il cane scivola può farsi male, quindi queste sono le indicazioni assolutamente importanti. Questi esercizi, come vi ho detto, serviranno per tenere impegnato il cane a livello mentale se il cane lavora a livello mentale, si stanca in proporzione molto di più che non a fare una passeggiata di un'ora o due ore. Quindi in questo momento di reclusione credo sia di fondamentale importanza mantenere comunque allenati mentalmente i cani. I giochi di esercizi saranno dal semplice, dai la zampa, rotola, l'orsetto, il vergogna ha esercizi anche veri e propri di ginnastica per potenziare, per mantenere funzionali i muscoli. Sugli esercizi di ginnastica ci faremo aiutare dalla nostra veterinaria chiropratica che segue la preparazione e la riabilitazione dei cani. Quindi potrete anche chiedere a lei se anche avete cani anziani, cani che hanno difficoltà a camminare, a muoversi potrà darvi un aiuto per mantenerli allenati anche senza uscire di casa. Ripeto ancora, gruppo Facebook Centro Cinofilo Felicia ASD oppure via Whatsapp ai numero che trovate scritto in basso nel video. Vi aspettiamo con i vostri cani, loro sono le mie due pastorine australiane, Easy e Fate sanno fare alcuni giochini, non tutti, quindi molte delle cose che vi proporremo le proporremo proprio dall'inizio insegnandole anche a loro. Vi aspetto sul nostro gruppo con i nostri video. Ciao!